Avere Il Un 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 Allora, oggi facciamo operazione che dobbiamo fare una knockout, non so parlare, lo potevo portare prima ma non li ho mai, vabbè, ok, la facciamo adesso, cioè sia coppie che squadre, allora la prima la facciamo coppie, poi se vedo che è a coppie qua, trovo, ok. Round, DS-DC, vinciamo questo, fai la tua scelta. Mamma mia che brutto, no no, che brutto però, c'è il pompo poteva andare, ma hai questo, precisione aumentata sparando senza mirare per tutte le armie, cioè erano brutte le prime c'era, no, no, ma, ciao schifo. Ok, ora c'ho un inventario da buscione, spara un po' troppo lento questo bomba, la prima ce l'abbiamo noi, ok, credo che si fossimo fatta ammazzare prima. Eh, che smirata, che doio, mamma mia, brutte smirate, ma il mio compagno è un po' scarso per caso, ma non so giocare oggi, oh ma quanto smiro. No, 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 oggi, non so, non so giocare oggi, non ho mira, c'ho la mano che non gira, ma non ho capito il compagno di questo qua, dov'è? Dove sei? Eeeh, le due pistole, perché ha la mitragliette due pistole? What? Ecco il compagno, l'avevo visto. Ehi, ma coltito di Giorgio e Kina per quello che sta nascosto. Sono scop... Eeeh... 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 Eh, mi la... l'altro di kill questo. Ma dai, un hit mancava. Ho la serata tutta di buon, eh, prendo una kill. Sono a 9, comunque. Io non... C'hanno una kill in più. Se ne facciamo una, vinciamo. Ma che brutta mira. Non muore. Sto nascosto che ho poca vita. Eh, ma 30 secondi. Nooo. 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 Bravo. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo anche ucciso. Fai la tua scelta. Allora, io direi di prendere... Ottieni i suoi del tempo o no? Ottieni i suoi del tempo. Ottieni i suoi del tempo. Ottieni i suoi del tempo. E' meglio qua. Un pochino meglio. Si. Bomba. Salto. E' una pistola. La posso usare un po' con un tragietto. In caso che sia scarico l'assalto. Così non è solo un luto da pushmore. Oh, quello lì ha finito? Ma come gioca questo? Bravo. Mi accompagno. Bravissimo. Non mi fa costruire... Ho finito i materiali. Palle, ma ci son troppo pochi materiali. Dai, l'avevo il distrutto. No. Sono bravi. Ma io non ho mira oggi. C'è proprio... No, non c'è la mira. Eh. Ma c'è la piramide. Dai. Ma c'è la piramide. Dai. ... Non c'è la piramide. Ehm. 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 che gli differenzi basta trattate qua eh vabbè ma dai distruggono questi vabbè abbiamo perso questa lasciamo neanche atterrare morite mo? hai scusato la mica eh eh vabbè basta perchè era un primo giro del mio compagno va bene hai fatto tu almeno l'abbiamo fatto eh non lo prendo io non lo posso prendere eh 5 kill vabbè mmm andiamo a scuola dopo questo va va così lontano? siamo seri? ok vediamo un pochino di vingerla eh coppia prima della mare fai la tua scelta mi piace mi piace questo qua viola va bene poi si muove più veloce qua eee eee Eeeh, cos'è la mira di... Ho lacerato anche a te, eh? Eeeh, madonna questo! Quell'assalto lì ha rotto i maroni però, eh? Chi ha? Adesso a te lo li distruggo dietro a sto cavolo qua Eh, lo scudo lo saluti Teppure, se no non so se è lo stesso, però lo saluti No, no, non entrano colpiti Lo distrutto Eh, vabbè Ma hanno tutti scudo, hanno tutte quelle cose dello scudo Ho capito Eh Ma almeno c'ha nessuno, loro c'hanno tutti lo scudo Ah, ma questo... Io vedevo il nome sulla sua testa, cioè non so se lo sapevi Vabbè l'ho ucciso comunque C'è una macchina in più, bisogna che ci impegniamo un po', eh? Allora Tu io che sto facendo schifo? Piace, metto mio Eh, la tu io Piace, metto mio Questo è tutto Apiccola No, non so Normal, non so È tutto Non so Ma raggiungare Chelle eh mira a me mira quello il sicuro a casa oh ma sono foscuto tutti questa appena spaventare a 50 dai scudini guarda lì su sepe con miei compagni fan qualcosa o no ma dai ti fa cagare trovi dei compagni che fanno schifo eh 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 ok 25 dai che lo finisce a questo appena suonato ok 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 prossimo round ok mister legante quarti di finale fai la tua scelta faccio la mia scelta così nuota più velocemente anche qui potrebbe servire no più o meno ok no ok sto già per svento e direi da andare lì andiamo tutti qui eh Sì, ma sono terrati in tre con me e i miei compagni. Cioè, non ho capito. L'ho smirato, ma... Lo terriamo qui e... Eh, morto, eh. Madonna, ma questi sono più bravi. Ma basta, a terra così davanti. Eh, mi calmate. Non si può mica a terra così, eh. Non vuoi più che a terra di qua, eh. Guardi, non ce l'ho. Sono un pisotto l'incognonito. Beh, ma i miei compagni non ci sono mai. C'erano un tizio lì. Dov'era quando mi sono arrivati sti due? Eh, ma che... Mi prendo quel cipollino. Eh, sì, ciao, dai. Eh, questo m'ha preso un cipollino che saltavo. Perché si trova sta gente contro e non con me? Ma trovo gli scarsoni. Oh! 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 Eh, uno l'ho ucciso, ma se no, in due erano. Sono ucciso. E muori. Ma vedi che mi attarano qui? Non si capisce niente, non si capisce dov'arriva. No, ma dai! Vuole trollare in sopra, non devo controllare io. No. Basta, ma sempre te! Sempre quello lì con la schiena della dietro. Ma stavolta lì da fare, ah, ma perché mi è venuto in mente di portarci un minuto sopra? No. Non la potevano creare. Sto, pompa, togge solo 22. Cosa fai, ricoglionito? Lega, tira le balle. No, ma perché ho dei compagni stupidi? L'ho tirato giù, ma ha fatto danno. Io... Eeeh, quello è arrivato l'acerino. Guarda, ma che altro? Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda lì come giocano, guarda lì. Tutti così. Noi... Guarda lì! Guarda, 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 guarda Grazie a tutti.